Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video sono delle ottime cuffie a padiglione con cancellazione attiva del rumore copriamone dopo la intro partiamo dalla confezione che è davvero molto bella è a cofanetto quindi molto carina al suo interno troviamo le cuffie protette in un case di tessuto davvero molto bello ha un tesone molto bello con anche il logo di Skullcandy poi comunque c'è anche un cavo di ricarica da USB a micro USB mi sarebbe aspettato la Type-C ma vabbè poi un cavo con entrambi i lati gioco quindi per collegare le cuffie a dispositivi non Bluetooth e anche un manueletto di istruzioni per quanto riguarda la qualità costruttiva invece non è il massimo mi sarebbe aspettato di meglio perché infatti comunque sono solido però comunque la qualità costruttiva che si percepisce non è il massimo nel senso che sembrano un po' fragili non mi ha mai dato problemi nell'utilizzo o nessuno schicchioli o cose varie ma comunque da un prodotto di questa fascia mi sarebbe aspettato un po' meglio comunque sono considerazioni da recensione poi comunque nell'uso quotidiano non ci sono reali problemi mentre i pulsanti sono un po' troppo duri e tra l'altro ho notato che non riuscivo a riconoscere al tatto quindi a capire subito qual è il tasto per abbinarle e quale per cambiare tracce per spegnere quindi diciamo che questo è un'altra cosa che non mi è piaciuto poi comunque invece come design mi sono piaciuto perché comunque è un design semplice e serio quindi comunque l'ho apprezzato comunque abbiamo vari tasti in queste squalcan di veno quindi per cambiare traccia regolare il volume, accensione pairing e c'è anche la micro usb per la ricarica poi c'è anche un gioco da 3,5 mm per collegare le cuffie a dispositivi sprovvisti di bluetooth o comunque se preferiamo utilizzare una connessione cablata come comodità invece siamo a livelli molto alti davvero comodissime sono leggere e stanno bene nelle orecchie non fanno molto sudare seppur le ho provate all'inizio della stagione calda in quel fine maggio che è arrivato il caldo anche a Milano dove comunque non è stato molto fastidio ma comunque le cuffie a padiglione con cui diciamo per l'estate non sono al massimo ma comunque devo dire che non facevano tantissimo sudare poi è molto bello che ci sia l'archetto per regolarle in modo che quindi se avete una testa e delle orecchie più o meno grandi potete regolare a piacimento l'archetto delle cuffie passiamo subito a parlare invece del cuore caldo di questo prodotto la qualità audio che è davvero molto molto buona abbiamo un volume molto alto e devo dire che la qualità è davvero convincente i bassi sono ottimi e anche i medi e gli alti comunque convincono non c'è nessun tipo di problema poi la cancellazione attiva del rumore è straordinaria perché comunque io l'ho utilizzata in metropolitana con tanta gente con la metropolitana di Milano che comunque è abbastanza rumorosa anche i treni soprattutto comunque devo dire che mi sono goduto le mie canzoni preferite anche in viaggio in questi giorni di utilizzo poi si può anche cancellare la ANC quindi l'Active Noise Cancellation per dire in inglese c'è proprio un tasto e quindi in questo modo potete parlare con le persone o se non volete isolarvi troppo comunque potrete disattivare la funzione quando volete poi comunque anche i microfoni comunque devo dire che ci sentono bene sentiamo bene comunque l'ho provato varie volte in nessun tipo di problema mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo il Bluetooth 5.0 quello che comunque è molto stabile è facile da connettersi e non dà nessun tipo di problema poi c'è anche il supporto a tile che è una funzionalità che permette di geolocalizzare le cuffie e poterle rintracciarle quindi non perderle e evitare che ce le rubano comunque certo c'è il problema che bisogna avere una connessione Bluetooth quindi non possono essere troppo lontano ma comunque fa il suo lavoro poi comunque c'è sempre la possibilità di utilizzare il cavo quindi per avere ancora meno notenza anche comunque sia con video su YouTube sia con music in streaming comunque nessun tipo di problema mentre l'autonomia è un altro aspetto che mi ha convinto tantissimo perché comunque il produttore garantisce 24 ore di utilizzo io comunque sono arrivato a 23 e mezzo quindi diciamo che sono arrivato molto vicino quindi confermo quello che afferma il produttore la ricarica impiega poco tempo un'oretta, due comunque diciamo che alla fine durano tanto quindi comunque i tempi di ricarica sono buoni e abbinati a questa ottima autonomia mi hanno convinto certo che una porta Type-C potevano inserirla invece della Micro che è ormai superata la Micro rispetto alla Type-C che ormai tutti i telefoni anche i prodotti abbastanza economici che ormai mi capita di trovarli con la Type-C parliamo invece di prezzo costa intorno ai 200 euro comunque su Amazon a 180 se riescono a trovare quindi non è poco ma comunque la qualità si paga e questo prodotto comunque sono comode sono eleganti suonano molto bene è ottima l'autonomia diciamo sono comunque caratteristiche che fanno valere questi quasi 200 euro a me personalmente sono piaciuti tantissimo se avete questo budget comunque tenetelo in considerazione perché comunque ne vale la pena io ringrazio Skullcandy per questo sample grazie anche a voi della visione descrizione link per l'acquisto e anche la recensione scritta sul sito dove posso anche aggiornare in tempo reale se comunque noto qualche problema o noto qualche cosa che mi è sfuggita quando ho redistratto a questo video comunque grazie della visione iscrivetevi al canale lasciate un bel like e noi ci vediamo alla prossima sempre qua sul mio canale ciao ciao